È il primo ad ammettere gli errori i giocatori con una sportività incredibile, intanto Ivan Zaitsev, mamma mia che bordata su Jovi, mamma mia che bordata, questa è una delle battute più potenti che vi ho visto fare quest'anno, abbatte Jovi Dai Ivan, tira forte anche questa, così siamo contenti, tira fortissimo, trovi Dovoto e Jovi che non si spostano di un millimetro, forse non riescono neanche a capire cosa succede Ivan Zaitsev torna al servizio, è la sesta esecuzione della sua partita, un'altra fucilata con la palla che va direttamente sulle tribune, terzo ace del parziale dello Zara Ancora Zaitsev va a tirare di nuovo fortissimo, ma a ruoti no, non riesce a tenerla, è un altro ace, 24 a 13, quarto ace personale di Zaitsev che in mezzo ci ha messo anche una slash e una ricezione meno per gli avversari Ora tre punti di vantaggio e Ivan Zaitsev al servizio, altra bordata, quinto ace, quinto ace personale di Ivan Zaitsev, dopo cinque ace personali, cerca il sesto, lo trova sul povero Jovi, malcapitato nella sera sbagliata in cui incrociare lo sguardo dello Zara 10-5 Modena, torna ancora al servizio dello Zara, tira ancora fortissimo, stavolta forse Siena ce la fa salvarla, no, non ce la fa, 11-5, terzo ace consecutivo per Zaitsev, settimo della partita Quasi in soliloquio contro la Emma Villas, mamma mia, ace, Ivan Zaitsev, signori non dovevamo neanche dirvelo che era ace, bastava sentire il rumore che ha fatto la palla sulla mannona ruvida Dell'Italo-Russo, con la maglia numero 9, 5-12 19-14, Zaitsev ancora fortissimo, ed è ancora ace, nono ace della partita, anche sul malcapitato Lorenzo Caldelli, che si era salvato in qualche maniera, rientra Jovi, il fatto è un sostituirsi sul ring, Zaitsev e Muhammad Ali